Sono partite le vaccinazioni anti-covid per gli ultraottantenni toscani con i vaccini Pfizer somministrati dai propri medici di medicina generale a 84 pazienti che hanno inaugurato questa nuova fase della campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Nei prossimi giorni verranno anche aperte sul portale regionale le agende a disposizione dei medici dove potranno iniziare a prenotare i primi vaccini per i propri assistiti con più di 80 anni dopo averli contattati e aver concordato con loro la data, l'ora e il luogo della vaccinazione. Per questa prima giornata di vaccinazioni era presente anche il presidente della regione toscana Eugenio Gianni. La grande alleanza fra la sanità pubblica e i medici di famiglia nell'obiettivo di arrivare più rapidamente possibile a somministrare i vaccini che sono l'unico vero grande argine che possiamo mettere contro il covid-19. Devo dire che è un'intesa che abbiamo partorito in un lavoro che è durato a settimana e che oggi vede anche molti medici di famiglia effettivamente motivati. Questa prima settimana sarà di rodaggio per familiarizzare con le procedure e testare la filiera. Io ho appena terminato la mia giornata e direi mi sembra sia andata bene, un po' emozionato per il momento che io definisco storico però mi sembra sia andata bene e soprattutto andrà meglio nel momento in cui entreranno in funzione tutti i miei colleghi che è a brevissima. Nel frattempo proseguono le vaccinazioni sempre con Pfizer e Moderna rivolte agli operatori sanitari e sociosanitari e al personale e agli ospiti delle RSA per i quali è vicino il completamento anche con la somministrazione dei richiami. In contemporanea avanzano le prime somministrazioni con AstraZeneca degli under 55 per il personale scolastico e forze di polizia.